Musica Benvenuti all'appuntamento con l'informazione su Rey TV oggi apriamo con la cronaca è stato tanto scalpore ad Acireale il servizio è andato in onda ieri nella nota trasmissione Le Iene si parla di compravendita di voti in occasione dell'ultima tornata elettorale per il rinnovo del governo siciliano una vicenda che desta tanta perplessità stamattina ha approfondito l'argomento Salvo Couturi, sentiamo Le Iene, la nota trasmissione di Italia 1 irrompa da Cireale e mostra un video di un presunto caso di compravendita di voti alla regionale dello scorso 5 novembre che coinvolgerebbe il consigliere comunale di Forza Italia Antonio Castro in corsa all'Ars un video girato di nascosto con un telefonino chiama in causa la detta alle vendite di una tabaccheria di Vampolieri presunta procacciatrice di voti in cambio di denaro 3.500 euro in contante per l'acquisto di un pacchetto di voti che cederebbe all'esponente politico in corsa per uno scranno a Palazzo dei Normani stando a quanto ricostruito nel servizio video delle Iene il diretto interessato il giorno dopo la messa in onda dei 13 minuti di inchiesta giornalistica non ha voluto commentare l'accaduto ai nostri microfoni e non escludere dimissione dalla carica di consiglieri ma l'ha già dato mandato ad un proprio legale di fiducia a tutela della propria immagine e onorabilità posso farle qualche domanda? c'è un fretta lei ha chiesto più volte trasparenza proprio perché non ci sono le dirette streaming all'interno del consiglio comunale? certo che sì essere trasparenti oggi non è una cosa importante consigliere? certo che sì a proposito di trasparenza le volevo fare vedere un video e quindi mostriamo al consigliere Castro il video in cui avviene la compravendita dei voti che avrebbe favorito la sua candidatura alle regionali e dopo il video gli mostriamo anche i messaggi in whatsapp dove si diceva di votare Castro Musumeci presidente a posto mi dica una cosa la magistratura ha queste la magistratura ha queste cose mi dica mi dica cosa pensa tu dopo aver visto questo video? una fangata lei prende questo video lo portiamo alla procura andiamo sono in diretta no siamo in diretta siamo registrati purtroppo non sono in diretta lei porti questo video in procura quindi c'è qualcuno che a sua insaputa qualcuno che a mia insaputa non so scusi adesso piove non sto scappando facciamo immediatamente chiarezza su questo scandalo il reato di voto di scambio è grave assolutamente il reato è gravissimo da arresto proprio immediato andiamo oltre in mattinata agenti della Dicos del commissariato 10 Reale hanno acquisito il servizio stampa e avviato le indagini per ricostruire l'identità di tutti i soggetti coinvolti nel filmato che potrebbero essere indagati per voto di scambio un reato gravissimo punito con la reclusione da un minimo di 4 anni ad un massimo di 10 anni il presidente del consiglio comunale 10 Reale Saro Raneri commenta così la vicenda siamo scomenti siamo perplessi per quello che è successo purtroppo ancora una volta il nome di questo consiglio comunale viene portato agli onori della cronica per un avvenimento ovviamente difficile in questo momento ovviamente da interpretare ci dispiace dispiace a tutto il consiglio comunale dispiace a tutta la città che purtroppo a Cereale viene ancora tirato in ballo soprattutto in una trasmissione come quella delle Iene che è seguita da tantissimi telespettatori io consigliere Castro ovviamente è uno dei consiglieri più attivi in questo consiglio comunale lo vediamo perché interviene sempre durante le sedute e io spero che al più presto il consigliere possa chiarire la sua posizione e lo ha sentito al telefono? no non l'ho sentito in questi giorni l'ho incontrato diciamo che si sapeva che vi era qualcosa tutta Cereale sapeva che vi era qualcosa in pendola e non pensavamo però che ovviamente venisse tirato in ballo in modo così pesante con determinate accuse io ripeto io spero che il consigliere Castro Antonio riesca nel più breve tempo possibile a chiarire la sua posizione presunto voto di scambio alle elezioni regionali che avvengono coinvolto un consigliere comunale diecinale candidato per Forza Italia alla tornata elettorale del 5 novembre consigliere Pio Castro ieri la trasmissione alle Ieni ha trasmesso un video esplosivo tutti sanno ma nessuno a quanto pare ha visto le nostre interviste no ha sentito di questa brutta vicenda? no non ho visto la trasmissione non conosco il quesito non ne ha neanche sentito parlare di questo presunto voto di scambio? no ho sentito dire qualcosa e che idea si è fatto di questa brutta storia? ma guardi ormai non è che c'è da farsi chissà quali idee sappiamo benissimo come funziona e come funziona da Cireale come funziona? ma lo racconti ma lo sappiamo tutti da 50 anni che si parla che dividono soldi per i voti non è che ci ci scecchiamo per questo quello che dovrebbe fare la magistratura il loro compito su questo e su tante altre cose che non funzionano inutile parlare con noi che non abbiamo come dire potere decisionale o di fare qualche una opinione se ne è fatta una opinione se ne è fatta l'opinione è lo schifo è lo schifo che è successo lo schifo che succede da tantissimi anni e non sono io a dirlo sono i fatti avete visto le iene? no no purtroppo no io sono garantista se non si è sicuro di determinate cose poteva essere anche solo una forma di presto o un regalo che gli aveva chiesto quello lei regala il denaro per esempio no no non regala solitamente il denaro insomma un regalo un piccolo contributo magari aveva bisogno di fare la spesa per la famiglia lei ha ricevuto mai questo tipo di contributi durante le elezioni durante le campagne elettorali? che io sappia no lei non ha mai ricevuto questo? no no io ho mai sì ho avuto modo di stamattina su facebook di sapere di queste notizie ovviamente suscita un po' di perplessità e di e di tensione anche nella collettività certo i fatti vanno accertati con serietà bisogna avere fiducia nella magistratura se ci sono queste case vanno sicuramente accertate e se ci sono sanzionate restiamo nell'ambito della cronaca ma cambiamo argomento i carabinieri della stazione di Caladabiano hanno arrestato Vito Strano 57 anni del luogo già domiciliare su ordine di carcerazione emesso dalla procura della Repubblica al Tribunale di Catania l'uomo deve spiare la pena di 4 anni e 10 mesi di reclusione per rapine e distorsione in concorso con l'aggravante del metodo mafioso reati commessi a Caladabiano nel 2013 ancora i carabinieri di Mister Bianco hanno invece arrestato Giovanni Trecarichi 53 anni del luogo su ordine di carcerazione emesso anche in questo caso alla procura della Repubblica l'uomo deve spiare una pena di residuo di 2 anni e 8 mesi di reclusione e pagare una multa di 11.500 euro poi chi è riconosciuto colpevole di detenzione fine di spaccio sostanze stupefacenti reato commesso a San Gregorio nel 2015 entrambi anzi questo è stato ristretto ai domiciliari l'arrestato invece è di prima è stato associato al carcere di Bicocca a disposizione dell'autorità giudiziaria e adesso andiamo ad Altarello frazione di Giarre dove si è registrato un altro tentativo di asportazione del Bancomat i ladri sono tornati in azione dopo qualche tempo lo stesso sportello Bancomat era stato oggetto della loro attenzione nei mesi scorsi e questa volta il colpo è fallito utilizzato un quantitativo di esplosivo non sufficiente per portare a compimento il furto l'assassino ritorna sempre sul luogo del delitto e questa volta l'assassino è la banda del Bancomat che questa notte intorno alle 2.30 ha colpito il banco posta di Altarello di Giarre uguale l'intenzione rispetto al colpo di alcuni anni fa ma diversa la dinamica allora il colpo venne effettuato col Caterpillar che procurò molti danni all'edificio dove ci sono le poste mentre questa notte il colpo è stato effettuato introducendo dell'esplosivo nell'apparecchio il quale data la modica quantità dell'esplosivo usato ha resistito producendo però solo dei danni materiali alla porta d'ingresso a differenza della volta precedente che si era dovuto rifare un pilastro molto danneggiato i carabinieri di Giarre al comando del capitano Leccese sono intervenuti per il rilievo del caso cominciando a visionare i filmati relativi pare che possano essere stati 3-4 persone per terra i paletti rotti dal camion utilizzato per caricare il banco posta se il colpo fosse andato a segno una ispettrice delle poste giunta da Catania ci diceva che la funzionalità dell'ufficio dovrebbe avvenire in tempi molto brevi a differenza di quanto avvenuto nel tentativo del furto precedente quando trascorso alcuni mesi perché l'ufficio fosse riaperto non si è potuto quantificare il denaro resistente all'interno del banco posta perché l'esplosione ha danneggiato l'apparecchio i carabinieri della stazione di Pedara hanno arrestato in fragranza un 29enne del luogo e un 20enne di tre castagni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti hanno rinvenuto i militari e sequestrato complessivamente 60 grammi di marioana un bilancino di precisione la somma in contante di 100 euro ritenuta provento dell'attività di spaccio oltre a varie materiali utilizzato per il confezionamento i due sono stati posti ai domiciliari e sempre a Pedara i carabinieri hanno arrestato un 46enne del luogo per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna nei confronti della quale l'uomo ha inveito e minacciato la donna dopo averla seguita non accettando la fine della loro relazione sentimentale l'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari adesso andiamo a Carlentini nel Siracusano dove le fiamme gialle hanno sequestrato una cava abusiva Importante operazione delle fiamme gialle la guardia di finanza di Siracusa infatti ha sequestrato a Carlentini una maxiarea già soggetta a vincolo paesaggistico che era stata abusivamente trasformata in una cava mineraria le indagini dei finanzieri di Lentini hanno consentito alla termine di approfonditi controlli anche delle carte topografiche e di sopralluoghi eseguiti in contrada a San Lio in zona sottoposta a vincolo paesaggistico di sequestrare una vasta area che copre una superficie di oltre 30.000 metri quadri sulla quale erano sorti edifici realizzati in totale assenza di autorizzazione e concessioni i finanzieri hanno individuato tre siti adibiti a coltivazione di cave privi di autorizzazioni dalle quali secondo una prima stima erano stati estratti circa 10.000 metri quadri di materiale basaltico e calcareo poi usato nell'edilizia su richiesta delle fiamme gialle e quindi intervenuto anche personale del distretto minerario di Catania che ha verificato l'ampiezza dei siti che andavano da una larghezza variabile di 9 metri sino ai 100 metri e un'altezza variabile da 9 sino a 24 metri il proprietario dell'area è stato quindi denunciato a piedi libero le indagini sono state coordinate dalla procuratore della Repubblica di Siracusa Francesco Paolo Giordano e dalla sostituto Davide Lucignani i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania a Piazza Dante hanno arrestato in fragranza un 29enne e un 21enne entrambi catanesi per detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti sono stati trovati in possesso di 50 dosi di marijuana per un peso complessivo di 80 grammi e la somma in contanti di 65 euro provento dello spaccio sono stati restretti ai domiciliari adesso andiamo a Fiume Freddo di Sicilia dopo l'assoluzione del sindaco Nucifora per una vecchia vicenda giudiziaria sentiamo la reazione dello stesso lo ha incontrato Melo Nicodemo è una giornata piena di sole e non solo meteorologico quella di oggi per il sindaco di Fiume Freddo Sebastiano Nucifora il motivo è dato dalla assoluzione che i giudici della terza sezione penale del tribunale di Catania hanno pronunciato nei riguardi dell'accusa di abuso d'ufficio in concorso che vedeva imputati l'allora sindaco Nucifora ed il geometra Giuseppe Vecchio dell'ufficio tecnico secondo l'accusa tra il 2006 e il 2010 avrebbero omesso di indire una gara pubblica per fronteggiare emergenze che sorgevano nella rete idrica assegnando i lavori di ripristino dei danni ad una ditta del luogo la soluzione con la sentenza perché il fatto non sussiste pone fine ad una vicenda che non doveva neanche sorgere in quanto la ditta che doveva svolgere i lavori non fu in grado di farlo e pertanto la necessità di intervento immediato affidando i lavori ad una ditta specializzata il sindaco Nucifora da noi sentito si dichiara soddisfatto ma dice di non rilasciare alcuna dichiarazione sul consiglio dei suoi avvocati affidandoci un comunicato nel quale conferma la giustezza del suo operato tra l'altro similare a quanto fatto da sindaci che lo hanno preceduto o seguito come si evince dalle ordinanze che ci ha fatto vedere nello stesso tempo la soluzione pone fine a quel dubbio che c'era perché il sindaco Nucifora nelle ultime elezioni non voleva presentarsi in quanto c'era la spada di Damog per quanto ricordava appunto questa sentenza e se fosse stato condannato si sarebbe dovuto dimettere ora tutto è concluso sindaco come ci si sente dopo questa sentenza dopo la sentenza ci si sente sempre bene ma io non sono abituato come non ho fatto nel passato nemmeno ora commento questa sentenza lascio il commento ai legali che hanno eseguito in tribunale la mia vicenda i carabinieri della compagnia di Giarre hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nell'ambito del piano denominato modello Trinacria ottenendo questi risultati a Zafferano è stato un 34enne originale dell'Albania perché nonostante fosse gravato a decreto di espulsione emesso dalla prefettura è rientrato illegalmente in Italia e poi denunciato una persona 36 anni di Giarre perché si era allontanato arbitrariamente dalla propria abitazione nonostante fosse ai domiciliari denunciato una persona 44enne di Naxos perché risultato positivo all'alcol test adesso andiamo a Catania per un progetto di prevenzione antiviolenza sentiamo Sara Rinau L'associazione Tamaya Onlus rafforza l'appropriazione in difesa delle donne vittime di violenza grazie alla nuova boccata di ossigeno che arriva dai fondi della legge regionale del 2012 il centro antiviolenza si è giudicato per quest'anno il progetto partecipando ad un bando sul contrasto al grave fenomeno in crescita e spesso sommerso l'annuncio e la presentazione delle iniziative che saranno messe in campo nel corso dei 12 mesi con il budget di oltre 100.000 euro sono state presentate nella sede dell'assessorato le politiche sociali del comune di Catania in occasione della giornata internazionale sulla causa è stato sottolineato come esiste già una rete antiviolenza di cui oltre a comune Tamaya fanno parte tutte le realtà coinvolte la procura l'aspe i comuni e le forze dell'ordine Qual è l'attività dell'assessorato tutto l'anno per questa tematica? L'attività dell'assessorato intanto è quella di prevenire e quindi campagne di sensibilizzazione momenti di incontro con il mondo dell'associazionismo momenti di incontro con la scuola noi durante l'anno siamo impegnati ad intervenire a dibattiti confronti soprattutto nelle scuole è da lì che bisogna partire quindi sensibilizzare i formatori quindi la classe dirigente gli insegnanti le famiglie la presidente di Tamaya Anna Agosta eletta lo scorso giugno ha elencato nel dettaglio nuovi servizi volti alla prevenzione formazione e assistenza nell'emergenza fondamentale è la creazione di una prassi ed un linguaggio comune fra gli enti della rete antiviolenza l'attenziamento del centro che apre l'apertura che aumenta l'apertura da 16 a 20 ore un servizio di emergenza per gli operatori della rete antiviolenza che quindi possono contare sul supporto specializzato delle operatrici del centro antiviolenza anche negli orari di chiusura del centro il collocamento in emergenza delle donne vittime di violenza presso due strutture in convenzione col comune e poi un'azione fondamentale di formazione agli operatori della rete antiviolenza è stato già avviato il primo corso di formazione ne sono previsti tre maia torna ad avere Bosch e lo scorso anno si era protestato con il silenzio sì quest'anno abbiamo deciso anche in relazione a questo progetto che ci vede appunto in stretta collaborazione col comune di Catania abbiamo deciso di partecipare di non scioperare diciamo a livello diversamente da come è successo l'anno scorso e di partecipare a varie conferenze esterne e poi all'evento che noi sosteniamo perché facciamo parte del movimento una di meno nazionale a Catania esiste una di meno Catania è un evento che ci sarà giorno 25 pomeriggio alle 15 alla Villa Bellini il personale del commissariato Borgo Ogni ha effettuato controlli mirati alla prevenzione e repressione del dilagante fenomeno della pesca illegale dopo la di pescatori privi di licenze che agiscono in palese contrasto con la normativa in materia fiscale scopo del servizio è stato quello di preservare la crescita e la riproduzione della fauna della flora marittima garantendo anche l'habitat marino circostanza quest'ultima messa a rischio appunto dalla pesca di frodo nello specifico sono state attenzionate le barche che fanno riferimento alla nautica di porto che è un tipo di navigazione sportiva o ricreativa senza scopo di lucro ma in realtà allestita in modo illegale ad attività imprenditoriale attuando pesca senza autorizzazione e anche pesca di frode e adesso restiamo a Catania presentazione stamattina della cartellona di Gilberto Idonea ma non sono mancate anche alcune polemiche sentiamo perché nel servizio di Sara Rinaudo lo ha detto anche con gli elaborati ironici e pungenti di Totò Calì Gilberto Idonea in una conferenza che non è una conferenza ma piuttosto un grido rammaricato nella sua Catania che è dimenticato di ricordare un suo orgoglio il grande attore Angelo Musco nell'ottantesimo anniversario della sua scomparsa volevo informare invece questa città distratta disattenta che spesso si eccita perché vengono inaugurate delle panchine dei semafori invece si scorda di parlare dei nostri grandi uomini che ci hanno reso orgogliosi io che ho girato mezzo mondo quando sanno che è siciliano subito dicono mafioso e io dico no io sono concittadino di Angelo Musco di Giovanni Grasso quelli che hanno creato il teatro italiano assieme a Pirandello e Angelo Musco viene sempre lassato solo l'attore catanese ritorna con il suo one man show spettacolo teatrale nato inizialmente nel 2007 come tributo all'attore Angelo Musco in occasione del settantesimo anniversario della sua scomparsa presentato in anteprima mondiale al teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania per la regia del figlio Alessandro spettacolo che ha poi girato il mondo l'omaggio a Musco è presente in tutto lo spettacolo un momento toccante proprio quello in cui prende corvo la scelta di scrivere il capitolo che manca nelle memorie di Angelo Musco cerca che trovi il capitolo che si rifiutò di scrivere ho conosciuto la figlia Franca e quindi sono orgoglioso di averla conosciuta e dieci anni fa alla fine dello spettacolo di commemorazione del padre al Musco mi disse Gilberto so che stai andando a New York ecco ti prego mio padre ha lasciato delle pagine bianche nelle sue memorie un capitolo che manca che era quello del grande abuso che gli fecero a Musco a New York quando lui recitò dal 4 ottobre al 9 ottobre e poi la lobby ebraica gli chiuso il teatro il Manhattan Opera House e io dieci anni fa per iscrivere questo capitolo che mancava con un cartellone davanti in inglese dietro in italiano mi mise a passeggiare davanti a Manhattan Opera House per ricordare che la nazione più democratica del mondo gli Stati Uniti avevano penalizzato due grandi attori Charles Chaplin perché accusato di essere comunista e Angelo Musco perché accusato di essere fascista e che non lo era era Mussolini che era un suo fervente ammiratore anzi un giorno gli disse Musco ma voi siete fascista e Musco c'erese eccellenza io sogno Marenaro un nuovo vento mi metto con One Man Show si inaugura al Metropolitan di Catania una stagione a quattro stelle ha il pregio di guardare con un occhio al pubblico non vogliamo mai presentare quei testi che certe volte si creano questi per dare spazio agli intellettuali perché queste cose banali non servono presenteremo un lavoro di Nino Martoglio che è un grande scrittore comico invece ha scritto un dramma grandissimo che si chiama Scuro che quindi presenteremo dopo One Man Show poi ci sarà Maggiordomo Cercasi che è una compagnia romana di Fabio Avaro che viene da Roma assieme a Enzo Carnevale e poi ci sarà Giovanna Criscuolo con Alessandro Ridonio e mio figlio che faranno amore e pinsimonio e alla fine ci sarà l'eredità dello zio canonico che nel cinema Musco fu costretto a cambiare in eredità dello zio buonanima perché mettere alla Berlina in quel periodo un brete non si poteva e adesso una nota del direttore generale dell'ASPE di Catania il dottor Giuseppe Giammanco nel corso della presentazione delle proposte trasmesse all'assessorato della Salute relativa alla garanzia della sicurezza degli operatori nei servizi di continuità assistenziale sul tema della sicurezza delle guardie mediche dice Giammanco condivido pienamente le parole della ministra Lorenzin che ho riconosciuto e sperato al rispetto del dolore del dramma vissuto dalla collega di Tre Castagne al contempo a rigore in merito alle azioni da intraprendere per il riordino del servizio e per la rivisitazione del modello organizzativo con lo stesso atteggiamento di rispetto per la dignità ferita e offesa di una collega prosegue Giammanco e di rigore nell'azione organizzativa e amministrativa ribadisco la vicinanza e la solidarietà mia e di tutta l'azienda e adesso andiamo ancora ad Acireale per la presentazione di un progetto assai importante nella quartiera di San Cosmo sono 12 ragazzi e ragazze tra loro soggetti con disabilità cognitiva e migranti minori non accompagnati ospiti dell'Ipa Boas e Cristo Re coinvolti nel progetto denominato ancora in piazza inserito nel bilancio partecipativo del comune di Acireale che ha stanziato 3.000 euro impiegati interamente per abbellire i quartieri periferici della città nei laboratori ricavati nei locali al coperto della Villa Belvedere i giovani ed educatrici da giorni sono impegnati a colorare queste mattonelle ed allocare nel quartiere San Cosmo un gioco di colori che è anche un ritorno alla tradizione con la rievocazione dei vecchi giochi da strada previste inoltre la piantumazione di cento alberelli e di una fontanella pubblica l'iniziativa coinvolge anche un operatore OTA la psicologa Rosaria Trimarchi l'architetto Laura Cavallaro e l'educatrice professionale Doriana Zappalà quest'ultima promotrice di progetti a sfondo sociale rivolti soprattutto alle periferie della città dopo San Cosmo il gruppo spera di ottenere nei quartieri di edilizia popolare di Aciplatani Il progetto si riguardava diciamo zone abbandonate ormai per fortuna San Cosmo non è più un quartiere abbandonato era stato già rilanciato dai residenti con la cura del verde pubblico poi con il nostro primo progetto Piazza Pulita c'è stata un'ulteriore svolta e questo è proprio un progetto nato ancora in piazza per dare continuità al precedente visto il successo che ha avuto sia in termini di sviluppo di competenze per i nostri ragazzi speciali sia anche in termini di integrazione e inclusione fra tutti quindi fra i ragazzi speciali fra noi fra i minori stranieri non accompagnati ospiti dell'IPAB e soprattutto fra i residenti che mentre l'anno scorso erano un po' scettici all'inizio da allora in poi invece è nato un rapporto di amicizia duratura e continuiamo a frequentarci con i residenti anche al di fuori dei vari progetti Cosa state preparando in questo laboratorio? Stiamo preparando allora stiamo cercando di abbellire ulteriormente la piazzetta in via degli ulivi quindi stiamo posizioneremo 90 mattonelle in cemento che i ragazzi hanno pensato di decorare con giochi educativi quindi ci sarà una parte di mattonelle decorate con le forme e i colori un'altra parte sarà di vita per giocare allo sciangatello e una parte invece con le emozioni quindi faremo degli smile che rappresenteranno le varie emozioni allegria tristezza felicità bene adesso la rubrica curata da Sara Rinaudo diritto 3.0 a tra poco oltre 100 donne in Italia ogni anno vengono uccise da uomini quasi sempre quelli che sostengono di amarle è una vera e propria strage i numeri del femminicidio non sono mai certi e possono variare di qualche unità ma sicuramente le donne uccise da un uomo con cui hanno o avevano in passato una relazione non sono in calo l'Istat ci dice che nel 2016 se ne sono contate 120 anche nel 2017 la media è di una vittima ogni tre giorni negli ultimi dieci anni le donne uccise in Italia sono state 1740 di cui 1251 il 71,9% in famiglia ad accomunare i tanti casi spesso sono incomprensioni e tensioni familiari il desiderio di separarsi l'affidamento dei figli ma la violenza non si misura con i numeri all'orrore del delitto si aggiungono soprusi quotidiani che sfuggono ai dati che se non fermati in tempo rischiano di fare altre vittime sono infatti migliaia le donne molestate perseguitate aggredite picchiate sfregiate distrutte psicologicamente quasi 7 milioni sempre secondo i dati Istat quelle che nel corso della propria vita hanno subito una forma di abuso solo negli ultimi anni è stata riconosciuta la gravità che porta con sé il fenomeno dello stalking sono 3 milioni 466 mila in Italia le donne che nell'arco della propria vita hanno subito stalking ovvero atti persecutori reiterati da parte di qualcuno con pesanti conseguenze sulla vita quotidiana e gli affetti vittime tra i 16 e 70 anni di queste 2 milioni e 151 mila hanno a che fare con un ex partner che assume tali condotte ma il 78% quasi 8 su 10 non si è rivolta ad alcuna istituzione e non ha cercato aiuto e poi c'è chi lo ha fatto o ci ha provato pagando con la vita il grido d'aiuto due casi su tutti balzati alla recente cronaca hanno il volto di due donne del Catanese entrambe accoltellate Giordana Di Stefano 20 anni di Nicolosi uccisa dall'ex compagno e padre di sua figlia Luca Priolo Mariana Manduca 32 anni di palagonia finita dalla ferocia del marito Saverio Nolfo la prima non aveva voluto ritirare la denuncia per stalking la seconda quando ancora non esisteva il reato di stalking denunciò più volte il carnefice per maltrattamenti e minacce di morte un delitto annunciato Bentrovati a una nuova puntata della nostra rubrica diritto 3.0 abbiamo sentito il servizio con immagini suggestive e con dati importanti pochi dati essenziali per introdurre questa puntata un tema molto delicato lo stalking che si inquadra nel tema più generale della violenza e dunque non a caso lo trattiamo nella settimana sulla violenza contro le donne come sapete ogni 25 novembre viene celebrata appunto la lotta alla violenza per parlare di questo importante tema oggi siamo ospiti dello studio legale di Enzo Di Mauro avvocato penalista un professionista che non ha certamente bisogno di presentazioni e che ringraziamo per questo contributo ci affidiamo proprio all'avvocato Di Mauro per cominciare innanzitutto ad inquadrare questo fenomeno il reato dello stalking è una parola di cui si fa parecchio abuso oramai inflazionata per eccesso o per difetto quindi cominciamo a dire che cos'è lo stalking e quando si configura questo reato la premessa andando buonasera a tutti la premessa è correttissima Sara perché oggi troppo spesso si parla di stalking anche in case che poi magari non sono dei veri e propri case di stalking la fattispecie di stalking è stata introdotta nel 2009 ricorderete non tutto può essere inquadrato nella fattispecie di stalking ci sono delle caratteristiche precise e credo che bisogna in qualche maniera ricordarle mi spiego meglio se io molesto una persona che sia una donna che sia un uomo perché gli faccio una, due telefonate oppure perché magari gli mando dei messaggini una o due volte quello chiaramente non è stalking e molestia il reato c'è sempre stato e va pulito in quella maniera quindi deve essere perdurante e grave stato d'ansia nella persona che riceve questa attenzione quindi l'aspetto fondamentale è il turbamento della serenità il perdurante stato d'ansia possiamo fare avvocato un esempio concreto sì sì possiamo fare un esempio concreto ovviamente non citando le persone interessate di un capo di imputazione questo processo reale che è in corso attualmente a Catania che seguo come difensore le chiedo rapidità e semplicità assolutamente assolutamente perché con l'aggravante quindi il reato di quello l'articolo 612 bis è quello che abbiamo visto perché con l'aggravante di aver commesso il fatto ai danni di con la quale aveva avuto una relazione sentimentale con condotte reiterate consistite nel pedinare la suddetta nel telefonare ripetutamente nell'inviare diversi sms nell'aggredire la donna picchiandola a volto e cagionando le zone personali e anche nel comprovocare un perdurante stato d'ansia di paura per la propria ingolumità e per quella dei suoi familiari e infine per averla pedinata raggiungendola e poi costringendola anche a fermarsi come vede sono varie condotte reiterate nel tempo quindi gli sms la telefonata il pedinamento che alla fine fanno configurare il diritto di stalking dunque diamo un importante consiglio iniziale quando si si sospetta di essere di fronte a uno stalker come la vittima deve comportarsi chiaramente rivolgersi alle forze di polizia ci sono delle peculiarità per il reato di stalking che non sono previste per atti fatti specie di reato per esempio il reato di stalking è sì perseguibile la querela ma la querela a differenza del termine ordinario che è di 90 giorni o 3 mesi sostanzialmente nel caso dello stalking può essere proposta entro 6 mesi da quando è accaduto il fatto quindi un termine più ampio abbiamo pochi minuti ma vogliamo dare delle dritte importanti soprattutto alle vittime cosa deve fare innanzitutto denunciare rivolgersi alle forze dell'ordine cosa accade da quel momento in poi l'autorità di polizia in questo caso il questore se ritiene fondata la denuncia se ritiene fondata quando gli viene raccontato dalla vittima assume un provvedimento che è quello dell'ammonimento nei confronti della persona dell'indagato sostanzialmente che ancora in quella fase non è tecnicamente un indagato se non adempie a questo tipo di avvertimento chiamiamolo così scatta la denuncia dell'autorità giudiziaria quindi la possibilità di applicare le misure cautelari altra cosa assolutamente importante che le vittime devono sapere ecco per questa fattispecie di reato il legislatore ha previsto l'ammissione a patrocino a spese dello Stato indipendentemente dal limite di reddito ribadiamo che sono già due tutele importanti assolutamente due garanzie sia i sei mesi di tempo per poterci pensare per poter agire legalmente sia il gratuito e c'è un'altra fattispecie un altro aspetto assai importante che la querela nel reato di stalking è revocabile però a differenza dell'ordinario diciamo può essere revocata soltanto davanti all'autorità giudiziaria quindi soltanto davanti al giudice sostanzialmente o al pubblico ministero la legge del 2009 ha sicuramente introducendo il reato dello stalking ha fatto aumentare il numero delle denunce però c'è ancora molta riservatezza o paura cosa possiamo dire in particolare alle vittime o a chi si dovesse trovare in questa situazione perché denunciare conviene perché spesso alcuni episodi alcuni fatti hanno potuto far passare un altro messaggio adesso la sensibilità è totalmente diversa le garanzie sono totalmente diverse quindi chi si trova in una situazione del genere non deve avere nessuna remora a rivolgersi agli organi di polizia dicevamo introducendo la puntata che ci troviamo a celebrare proprio in questi giorni il 25 novembre una giornata importante anche se avremmo voluto che non esistesse non fosse mai istituita una giornata contro la violenza sulle donne lo stalking però non è sempre a senso unico no infatti mi fa piacere anche se lei vi faccia questa domanda è giusto dirlo anche se ovviamente le percentuali sono assolutamente maggiori nel caso della vittima donna e lo stalker uomo però le posso garantire che ci sono anche casi contrari così come ci sono i casi in cui tutte e due assumono la figura di stalker c'è l'uno stalkerizza l'altro e dice come può accadere proprio reciprocamente sono previste anche se siamo nell'ambito di una famiglia ci sono anche case di giospenza se siamo nell'ambito di una famiglia il giudice può intervenire disponendo l'allontanamento di entrambi i conici parlando di evoluzioni la riforma del processo penale ha fatto molto discutere negli ultimi mesi la possibilità tramite la firma di un assegno di cancellare il reato di stalking e c'era stato un caso proprio a Torino se non sbaglio sì a Torino dove la stessa vittima aveva rifiutato le 1500 euro che erano state offerte invece il giudice l'aveva ritenuto un compenso giusto sì è levato c'è stata una levata di scudi e proprio siamo non potevamo essere più tempestivi perché proprio ieri il Senato con il decreto fiscale che è collegato alla manovra finanziaria dove entra un po' di tutto quel cosiddetto maxi emendamento ha approvato una modifica a questo 162 terre che esclude esplicitamente il reato di stalking dal novero dal ventaglio delle fattispecie perseguibili l'acquarela per cui si può arrivare all'estituzione del reato attraverso il risarcimento del danno non c'è più questa possibilità un avvocato gattivo ma in realtà non è così allora ringraziamo l'avvocato Enzo Di Mauro grazie a voi penalista che ci ha dato questi importanti consigli ci ha delucidato su una tematica sicuramente molto complessa siamo arrivati al punto di partenza proprio per far luce e distinguere fra lo stalking e i confini fra lo stalking e dove lo stalking in effetti non ci sta vi ricordo in conclusione di questa puntata che potete inviarci le vostre segnalazioni attraverso l'indirizzo mail diritto chiocciola re tv punto it è proprio tutto grazie ancora arrivederci a mercoledì prossimo non ci sono ulteriori aggiornamenti si chiude qui questo appuntamento con l'informazione che potrete seguire tra poco sul sito re tv punto it sulla nostra pagina facebook vi lascio come di consueto alle previsioni meteo è tutto grazie per averci seguito arrivederci le previsioni meteo del 23 novembre 2017 il cielo sarà variabile su tutta l'isola con alternanza tra sole e nubi i mari saranno sostanzialmente calmi o poco mossi le temperature previste sono nella media stagionale a catania e provincia la colonnina di mercurio oscillerà tra una minima di 11 e una massima di 20 gradi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti